Ciao ragazze, nel video di oggi vi farò vedere gli acquisti cartopazzi di ieri alla Lidl Vediamo scontrino alla mano cosa ho preso Allora, iniziamo subito da questi due pennarelli Che sono due pennarelli metallici Diciamo tipo uniposta con le palline al loro interno La punta molto piccola Ce ne erano di tre colorazioni Venduti a coppie C'era rosso e verde, argento e oro Io ho preso rosa e azzurro I pennarelli costano 2,99 euro L'unica cosa che non mi piace di questi pennarelli E' che su carta normale Trapassano completamente il fondo Per cui insomma usarli sull'agenda sarà Credo pressoché impossibile Poi c'erano questi adesivi a francobollo Della marca Crelando Come quasi tutti gli oggetti che vi farò vedere Ci sono 108 pezzi In pratica ci sono 6 confezioni Tipo quelle dei fiammiferi Con all'interno questi adesivi Appunto che ricordano il francobollo 18 quindi insomma ce n'è un bel po' Con vari disegni Per cui ci sono ad esempio questi qua Con i coricini, le farfalline L'angioletto Questi adesivi a francobollo Costano 3,99 euro Poi ho preso questo set per bricolage Poesia Ce n'era un altro Di un altro tema Che adesso non ricordo Comunque era del tutto simile Con un altro colorazione Per cui su azzurro Se non ricordo male Contiene 80 tre pezzi Che vengono indicati qua Spero li vediate E il set si presenta così Per cui ci sono questi coricini Allora questi coricini In cartone Che poi possono essere ovviamente Rimossi ad uno ad uno Adesso non li tolgo E poi incollati con il bioadesivo Molto belli Questa confezione di glitter O brillantini rosa Il set bricolage Poesia Costa 4,99 euro Poi ho preso Questi due blocchi di carta Sweet e romantico Sempre della Crelando Composti ciascuno Da 20 fogli In formato A4 E grammatura 160 Con tutte queste fantasie Che vedete già raffigurate Sulla copertina E vi faccio vedere Più da vicino Quelle dell'album dolce E dell'album romantico Ci sono due fogli Per ciascun disegno Sono pazzeschi Tanto che sono belli Di qualità Questo qui Nero Con questa parte glitterata La gabbietta qua sopra Ogni foglio è double face E su un lato è liscio Mentre sul retro è glitterato Vedete? Vedete che la gabbietta qua è glitterata Di là era liscia E anche gli uccellini I cuoricini Spogliamo brevemente Anche l'altro Che presenta La stessa caratteristica Per cui abbiamo La parte glitterata La parte liscia Ci sono vari colori I due blocchi carta Suite romantico Costano 4,99 l'1 Infine ragazzi Ho preso questo blocco Di carta colorata Da 50 fogli De rammatura 135 Misura 24x34 Che è più che un album Di carta colorata Secondo me È una cartella colori Perché c'è Qualsiasi colore Vedete tutti i rossi Tutta la gamma di viola Tutta la gamma di fucsia Giallo Arancione Insomma C'è da sbizzarrirsi Veramente Persino Il blocco di carta colorata Costa 2,49 Per oggi è tutto Ragazzi Vi ringrazio Per avermi seguita Ditemi se anche voi Avete preso qualcosa Di questi articoli Crattopazzi Alla Lidl Mando un bacione A tutte voi E se vi fa piacere Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao